ed è tutta gialla e anche i miei capelli brillano ora devo cambiare l'espressione di faccia oh meglio di nuovo perché mi viene da piangere dopo lasciamo quella che c'è oh il mio orecchio oh così così sono comoda comunque stavo dicendo oggi siete venuti da me per guardare questo fantastico video in quale io sfido Masha, sì la mia amica Masha ciao bambini io sono Masha, ciao Tella ciao Masha hai detto che facciamo un bellissimo giochino oggi sì, hai sentito bene e che giochino è? è un bellissimo giochino ti faccio vedere un esempio ah ho capito che giochino è bambini adesso lo scoprite mentre noi giochiamo forse si sono un mille ah va bene non glielo dico e chi ci sarà a guardare se giochiamo bene? ho chiamato anche l'orso ah ecco perché mi seguiva prima sì sì l'ho chiamato così lui fa il giudice va bene questo è il tavolo? sì mancano i pennarelli i pennarelli ce l'ho qui uno verde uno arancione e uno blu eccoli tutti i tre pennarelli belli uno anche con cuffetta e gatto voi che belli sì sì sono bellissimi ora avviciniamo il tavolo ci mettiamo qua e dov'è l'orso? sto arrivando è là dietro è là dietro di me orso dove sei? orso eccomi eccomi sto arrivando bambini ciao sono venuto a giocare in questo gioco no no orso tu devi fare il giudice oh va bene allora guardare come giocano le ragazze quindi mi metto qua va bene facciamo la prima partita? sì cosa mettiamo? io metto il cuoricino allora io essendo una stella metto la stella bene giochiamo allora prima dobbiamo disegnare la rete eccola sto disegnando io fatto così io faccio il cuoricino e io faccio la stella ok iniziamo bambini hai visto il mio cuoricino qua in mezzo ecco che bella mossa ah sì così vuoi fare? allora io la stella la metto vicino vediamo così oh no stavo disegnando il cuoricino faccio così ecco una stella molto strana hai proprio ragione è una stella molto strana vero bambini? continuiamo con il cuoricino dove lo disegno? lo disegno con un altro cuoricino ora posso fare la riga no no non puoi vero bambini non puoi no no prima devo io disegnare la stella va bene disegno una stella ora ecco la mia stella tu non puoi fare la riga così tu non puoi fare la riga così bambini avete visto? non è vero invece ho ancora qualche chance fanno disegnare il mio cuoricino di qua ma hai disegnato davvero un cuore dalla mia parte? no mossa non puoi ragazzi non litigare giocate va bene allora io devo disegnare una stella per impedirti di fare la linea bambini lei non si è resa conto ma io ho fatto un piano se lei mette qua la stella non potrà fare la riga invece io riesco